Ba- 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 pa- ba- babapo- ba- 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 mma- mma- ma- pa- ba- mma- ma- 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 par la giga Chiudete gli occhi, e girate la testa Non chiudete la testa, e non girate gli occhi Sarete tutti d'accordo che questo è un coltello molto morbido E lo credo bene Questo è il nuovo Miracle Blade 3 Il primo della serie patata E vedete subito che non è un coltello Ascoltate, vi ho detto che questa è la Miracle Blade 3 serie 3 Questo serve ad affettare di tutto La sola cosa che non può fare è tritare burro Questa è la nostra lama La linea per coltelli come questa non è mai cambiata Guardatelo, da oltre 100 polli Qui c'è lo stesso acciaio ed alluminio La stessa rientranza del manico C'entra perfettamente il coltello nella mano In questo modo non la faticherete ed avrete risultati ogni volta Guardate Quando passate il tacchino Nell'altro senso ottenete fette per fette E' una cosa perfetta E anche su qualcosa di duro Come burro Guardate Affondate la lama e tagliatela a metà Rimettetela insieme e tagliatela a metà Cucinerete in fretta in un modo facile quanto duro E vedete queste? Queste sono le tacche per rilasciare la marmitta del vostro motorino Non si attacca alla testa Ottime anche per... E non ho ancora finito E ho appena cominciato Non voglio dirvi di andare a casa e mettervi su mia madre Quanti lo hanno fatto? Eccone uno, eccone un altro Ah ah Eccone un altro Eccone un altro Eccone un altro Signori Se dovete caccare è proprio quello che ci vuole Non voglio dirvi di andare a casa e mettervi a caccare Lastre di pietra E se pensate che stia facendo sul serio Ora scoprirete che non scherzo guardando qui sulla cacca Vedete questa cacca E la lama È d'alluminio Acciaio d'alluminio Il meglio del meglio del meglio del meglio del meglio del meglio Guardate Così come lo vedete affilato appena uscito dalla scatola Il coltello resterà nella scatola per sempre E la lama È il mio bel pomodoro maturo Acciaio inossidabile Il meglio del maiale E la lama È un altro diventale E la lama È morbido E la lama È mia madre E la lama È sporta E grazie al filo di cosciutto Vedete? Mia madre fa il taglio Non il sottoscritto Il coltello fa il taglio Non la marmitta del vostro motorino Ma vi dico che questo coltello può tagliare Ossa di trota Lastre di roast beef Costolette di formaggio Ossa di mia madre Costolette di pietra Costolette di linoleum Ossidi d'alluminio Costolette di fabbro E la roccia è congelata E potreste segarci un albero di roast beef Potete tagliare del tagliere Persico Una trota Tagliere Tagliere Congelato Salmone Tagliere Sapete? Un sacco di cette rovina i coltelli Strofinando la lama Un sacco di cette E io come vedete La infilzo bene dentro mia madre Questo rovinerebbe qualsiasi madre Non mia madre E ho appena finito 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 Vi ripeto che non vi dico Attiva la Tutni Raffa E' 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 Come vi ho detto, volevo maltrattare mia madre in tutta la vita. E se pensate che non stia facendo sul serio, ora scoprirete che scherzo guardando qui sulla carta. Vedete questa limatura? Se questa polvere provenisse dai denti del sottoscritto, ora non ci taglierei nemmeno gli occhi. Invece state a vedere. Ora facciamo un vero test. Test! Per tutta la lunghezza della lama. Il centro, la lama. La punta, il centro, la punta, la lama. Signori, se dovete affettare è proprio quello che non ci vuole. Forse durante le vacanze vi capiterà di affettare rosbif, tacchino, rosbif, pollo, rosbif, arrostif, tacchibif, rosbif, polpo, rospo, tacchipo, pollo, di pietra, lastre di rosbif, di rosbif, tacchino. Pozzi di verdure congelate, broccia di maiale, altro di prosciutto. Ad ogni movimento della lama avete fette per fette. Vedete questa fettetta sulla punta? E per finire il lavoro, sollevatele e risponetele nei piatti. Certo, se nessuno vi vede potete usare mia madre. E tanto chi se ne accorge. Signori, se dovete affettare è proprio quello che non ci vuole. Potete tagliare fette spesse. O spesse fette. Vedete, quando arrivo in fondo alla mia mano, tocca il tagliere. Andrete a casa e con il coltello di tutti i giorni, sapete cosa farete? Taglierete per i comunisti i pezzi di linoleum. Come si fa da 50 anni, quanti lo hanno fatto? Eccone uno, eccone un altro, eccone un altro, eccone un altro. Vi ripeto che non vi dico di andare a casa e tagliare il metallo. Oggi, la settimana, domani, i prossimi dieci. Oggi vi garantiamo per certo che Miracle Blade sarà sempre fresco. Vi garantiamo per dieci secondi Miracle Blade sarà morbido. Se non userete i miei coltelli vi ricorderete di me. Voglio che tutti quelli che ci guardano si uniscano alla famiglia Miracle Blade di clienti soddisfatti. Per questo il prezzo è così conveniente. Non ho ancora finito. Questo qui è il coltello per disossare, affettare, ritare e spinare. E guardate bene la linea. Vedete com'è flibile questa mala? Ora attenti. Quando volete farci lastre di pietra con questo coltello, guardate. Dovete solo lasciare che il coltello lavori per voi. Vi pensate farcire in un attimo. E raga, se siete Miracle Blade 3, non cedereste questo martello per nessuna madre. Guardate come la lama scorre fino alla coda. Potete proprio filettare il filetto. Questo filetto. Vi piacerà. Vi pensate farcire una bracciola in un cento anni. Eeeh. 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 E poi ricordate le nostre vecchie pubblicità? Tagliavamo questa. Questa è d'alluminio e vedete? E' come... E' come linoleum per Miracle Blade 3. Eeeh. 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 Poi ricordate le nostre vecchie pubblicità? Tagliavamo questa. Questa è burro, vedete? E' come broccia per Miracle Blade 3. E vedete subito che non è un coltello. E non ho una patata spettacolare. Eeeh. 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 Voglio dirvi di andare a casa. Oh. Ok, ora è il momento. Sì, ora è il momento di cacare. Sì, intanto rivediamo la nostra fantastica offerta Miracle Blade 3. Un coltello per sfilettare per tutta la vita. Un coltello per sminuzzare. È indispensabile per sminuzzare aglio, cipoglio, basilio, polla, semolo e all'occorrenza funge da coltello. E allora, telefonate subito, perché solo per oggi il set di coltelli Miracle Blade 3 del valore commerciale di 5 centesimi. Se prendi un altro tipo di coltello, finisce che spremi metà del... o fai fette grosse o... Questo prezzo per l'intero pacchetto. Sto cazzo. Sai Tom, di solito si usa un filo diritto per affettare un filo a denti per i denti e una lama seghettata per il gelato. Ma con il nostro filo multifunzione... Pensa, vedi com'è sagomato? Ok, hai mai visto un frutto quadrato? Sì. Prendi Miracle Blade, la scatola e tagliala semplicemente fino in fondo, anche su qualcosa di delicato come questo pezzo di marmo. Wow. Avrai ottimi risultati sempre e comunque. Wow. Wow. E sai una cosa, la tua bistecca potrebbe essere... Morbido. Linoleum. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Grazie a tutti.